Dai libri alle fiabe in chiave circense agli equilibrismi di acrobati si prepara una quattro giorni interessante per Caltanissetta dove la città parla ai bambini e alle bambine e forse anche al bambino che ciascun adulto ha dentro sé. Un festival pensato per avvicinare sempre più i giovani alla lettura ma non solo, anche il crossbooking ovvero lo scambio di libri in piccole casette della cultura che saranno presenti nei vari quartieri della città. Ricominciano gli incontri di letteratura per i bambini qui all'interno della biblioteca Scarabelli abbiamo degli scrittori che presenteranno le loro opere, i loro libri sotto forma naturalmente di gioco. Giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 19 qui in biblioteca. Oggi alle 19 e 30 poi consegneremo ai comitati di quartiere delle piccole casette nelle quali saranno depositati dei libri. Da domani invece abbiamo tre giorni di spettacoli di strada. È un appuntamento molto importante perché sono degli spettacoli all'aperto. Sono dedicati sia ai grandi sia ai piccini. Domani sera abbiamo alla scalinata San Francesco uno spettacolo per voce narrante e burattino, la storia di Bianca Cipugia. Poi venerdì abbiamo il circo, sono due acrobati che ci intratterranno a largo barile. E poi domenica avremo gli entre nous, degli artisti che vengono dalla Svizzera. Lo spettacolo sarà alle 19, durerà un'ora. Grazie.